Un terremoto, e forse definirlo tale, è pure eccessivo perché, ad essere onesti, la nuova bufera che ha investito la giustizia isolana, che davvero negli ultimi anni pare non trovare pace, non sembra neppure aver sconvolto più di tanto gli addetti ai lavori. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con una propria delibera, ha di fatto proposto il trasferimento del giudice Eugenio Polcari, coordinatore della sezione distaccata del Tribunale di Ischia, nella seduta dello scorso 5 maggio. L'accusa è chiara, in compatibilità con l'ufficio di attuale assegnazione e con ogni funzione giudiziaria nel circondario di Napoli. Tutto ha inizio lo scorso gennaio, quando Polcari viene iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di abuso d'ufficio a seguito di un esposto presentato dal geometra Giovanni Acono. In questo atto venivano segnalate una serie di condotte poco ortodosse da parte del giudice, che sempre secondo quanto dichiarava il denunciante, e questo va ricordato, resta sempre da dimostrare fino a prova contraria, frequentava senza pagare, in compagnia dell'ufficiale giudiziario Antimo Pucca, ristoranti, stabilimenti balneari, saune e spiagge, oltre a ricevere regalie varie. Non è tutto. Al magistrato viene contestato di essersi fatto difendere, sempre a titolo non oneroso, dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, in due procedimenti amministrativi, omettendo però come giudice di trattare le cause che vedevano protagonista lo stesso legale. Da qui l'apertura del procedimento per incompatibilità ambientale. A rendere la situazione ancora più complicata ha contribuito anche la presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, che ascoltata in audizione il 3 dicembre 2020, spiega che la realtà ischitana nell'ambito giudiziario è particolarmente litigiosa, e poi si sofferma su un episodio che la lasciò particolarmente perplessa, e che evidenzierebbe i rapporti tra Polcari e l'avvocato Di Meglio. Proprio Polcari chiese appuntamento a Lagarzo perché voleva venire a parlarle insieme ad Antimo Pucca, ufficiale giudiziario destinato alla pensione, ma di cui il giudice voleva perorare il proseguimento dell'attività. In quella circostanza però all'incontro, per grosso stupore della dottoressa Garzo, non si presentò Polcari, ma Giuseppe Di Meglio. Una presenza non preannunciata e dalla chiacchierata inoltre emerse anche un'altra dipendente amministrativa, Rosa Di Maio, continuava a prestare servizio in ufficio pur essendo andata in pensione, sebbene nessuno l'avesse autorizzata a proseguire l'attività lavorativa. Tutto quanto appreso da Lagarzo fu trasmesso naturalmente al CSM. Ovviamente Eugenio Polcari, per completezza di informazione, ha presentato una lunga e articolata memoria difensiva, nella quale in particolare riferisce di aver provveduto, una volta nominato giudice a Ischia, alla revoca dei mandati di difensore di fiducia Giuseppe Di Meglio, per affidarli al professionista napoletano Ferdinando Scotto. Non solo, precisa anche con forza che le accuse contenute nell'esposto del geometra Iacono siano tutte infondate, una difesa che però non ha evidentemente convinto il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma se vogliamo, quello che amareggia più di ogni altra cosa nella delibera del CSM sono le parole dell'allora presidente reggente del Tribunale di Napoli, che nella sua audizione ebbe a dire tessualmente Ischia, in queste condizioni, è un presidio a rischio per la legalità, la maledizione di tutto il Tribunale di Napoli e forse di tutta l'Italia. E non crediamo servano ulteriori commenti.